ciao a tutti che sono venuti in questo nuovissimo episodio di cat mario questa settimana di flash games questo è un gioco scleroso è cinese, giapponese, coreano, non lo so permerò la prima cosa no ok per tre? ho tre vite è stile cat mario quindi cioè stile mario quindi devo fare cosino what the fuck l'ho già fatto l'idea quindi so un po' come funziona però è trolloso mi dicono dalla regia what the fuck? e quello è un nemico? vaffanculo ti odio ti odio colpa di lente dai 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 che cacchio? è mortale nooo vabbè ma cioè no non vale no 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 eh sì perfetto finito le vite è morto cosa? meno uno l'ho ok vanno all'infinito vaffanculo a te vaffanculo alla corea e a tutti king long juna eeeh che cos'è? calma sulla con calma uh fungo ma vaffan ma vaffan bene ma è cascato il coso addosso no non vale non vale devono bannarlo per cheating eeeh bisogna chiamare il tribunale di lol qua perchè uff ancora o vado super veloce o vado super lento o tu vado per l'alto mannaggia eeeh eeeh che cos'è? eeeh babuino mannaggia il babuino siangane basta non per la giornata fuori eh mi sa che ora finito questo video per la passeggiatina vero? no no uh la stella che mi è mai stella nooo ma è mario la stella non ti serve per ah ok figo ok ok ora lascio ora lascio oh vabbè che cos'è? la nuvoletta che troia la la nuvoletta bastarda eh si what the fu ma non mi servono a niente le monetine ecco suicide for the win suicidiamoci tutti il suicidio è bello no non è vero brutto suicidio cattivo suicidio non devo prendere la cosa non devo prendere la cosa ffff ma fa culo sono ancora vivo coi si è gliciato il gioco epico nooo pensavo di doverci saltare sopra dai dai al mio primo livello lo finisco eeeh ma vaffan bene a te eeeh eeeh vai haha io aspetta qui non voglio shiftare peccato Dai, dai, bitch, dai, bitch, bitch Ah, ah, you bitch, motherfucker, ah, ah You bitch, you're gonna die You're gonna die Ho vinto? Figo No, 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 no Ho perso E come faccio? Devo saltarlo Devo passarlo in alto Cioè, devo saltarlo Ti odio Penso di odiarti, sì, ti odio Non completamente? Non è vero, ti odio completamente Dal più profondo dell'animo Umano, sei un gane NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Que cacchio Ma l'hai visto L'hai visto no Cioè è visto che io Non era mia intenzione prenderlo qualcosa No Ancora Cosa mi dice che è impossibile questo gioco Mi sa che è impossibile Comunque basta che voi cercate Cat Mario Su google e vi trovo il link Se volete giocarlo E' impossibile Cioè è possibile però Se è una beach Se è proprio una spiaggia Che cacchio Se cade il mondo Stai calmo Stai calmo Vengono Rai più in de anus Na 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 Mwaه Grah!